Matteo Scozzarella, la penna vuol far rispettare la distanza a Oger e a Gatto. Situazione interessante ora per il Trapani. Attenzione ai saltatori, soprattutto a Scogna Miglio, difensore centrale, che ha il vizio del gol. Scozzarella, traiettoria a cercare il secondo palo, pallone che rimane lì, l'intervento di Stracoscia, il pallone che però non riesce ad entrare. Attenzione, ancora rimesso in mezzo, ma che occasione per il Trapani, Coronado, nuovo cross, pallone allontanato dalla Salernitana, brivido davvero. Davanti a Marie, buono il controllo, è passata a Marie, in area di rigore, ancora Marie piazza al destro, la parata di Stracoscia. Non è finita, Calderoni all cross per Corvia, Stracoscia con i pugni, però al di là di tutti. Il cross di Scogna, Corvia, Stracoscia sulla traversa, super intervento, nel portiere della Salernitana. Cross per Brosco che gira, Stracoscia, palla che rimane buona per Della Fiore, che prova a lavorare con un pallone all'indietro, però al di là di tutti, anche... Poi Corvia, Schiattarella, Corvia si gira, calcia con il destro, Stracoscia in qualche modo. Rossi, va a cercare, Gabriella, tutto Ganesa, così vince, di forza al duello, può a cercare Schiattarella, palla che rimane buona per Corvia. Stracoscia, tiene a galla la Salernitana. Siamo già dall'altra parte. Tava paciência, Portugal può fare il secondo, tem qui subito Riccardo Horta, Gonçalo vai para o remato, defende, Thomas Stracoscia. Non se percebeu nella prima fase che Riccardo Horta stava in una migliore posizione, depois arriscou o remato, acabou por seguir a figura. Eventualmente, só può essere questo per me ovo. Atenzione a Portugal, Rony, remato, defende, Thomas Stracoscia, remato di Rony Lopes. È la prima situazione di grande pericolo, logo a abrire questa scuola. Una delocazione del medio interior a permitir... Atenzione, Gonçalo, grande defesa, Thomas Stracoscia a voare, è una fotografia, è una fotografia, è una fotografia, è una fotografia di questo albanese. A capire... E una maturità... Olha qui, Carsemané, attenzione, Rony Lopes va para o remato, defende, Stracoscia, con le pernate. Mais una volta, Portugal a ameaçar o 3 a 0. E Portugal non desiste, e Portugal non dormece a sombra del 3 a 0, che era il quarto. Guarda, 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 guarda controってる l'amamento, guarda, guarda. E puispona, guarda, 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 guarda in centro. Advederemo il termè per rio Afe, Poco Bortin, Advoraz liqu maintained, purtro gigo inайте la cabона bomba dona dell' refill, guarda, 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 guarda Pass making bale visto all'interVit כ nur shells perdi. Ferrari, Ferrari, la rispinta di Stracoscia, arriva il gol di piccolo, di mezza allo scopo. Lancio per Diuric che prende il tempo e Stracoscia riesce a bloccare il terzo tempo da cestista di Milan Diuric. Diuric verso la porta, Diuric contro Empereur, lo sposta, Diuric entra in area di rigore con l'esterno, entra nell'area piccola, c'è la parata di Stracoscia, c'è il calcio d'angolo, tutti a protestare con Pinzani, sembrava netto il fallo di su. Sul secondo palo lui e Troiano, parte lo spiovente, grande parata di Stracoscia, è stato Masucci a sfiorare il 2-0 per l'Entella. Mazzitelli, Stracoscia ribatte, non trattiene, ancora Kupic, pallone buono, palla retrata per Morosini. Deviazione, arrembante il Brescia, ancora vicino al gol. Sì, sì, hanno queste reazioni. Cambio di marcia di Zito, poi il cross, sul secondo palo arriva Cavazzi e Stracoscia si riscatta mettendola in calcio d'angolo. Occasione per Lavellini, un avvio di seconda. Sarà il tocco di Ferri, Adamo, Stracoscia e poi Taviani alto sulla traversa. Non era facile la parata di Stracoscia. Assolutamente, è tirato fortissimo. La palla all'ha vista all'ultimo momento, è stato bravo a stare fermo, a respingerla. Bravo. Proteste naturalmente in occasione del rigore. Sia sulle corsie esterne, sia anche con i freschi in modo particolare a Tonkara. Diarà, il lancio dentro, Duff è solo in aria, Duff ancora, Stracoscia, a salvare la propria porta. Grazie.